SPECCHIO Mediva ha lasciato di nuovo in giuro i pezzi degli scacchi Potrebbe essere un problema Ah, si è un problema Io ci sento l'unico più a sinistra Ehm, allora, se quel potere la costava 6 in teoria o 4 adesso costa 2 Il che rende le cose molto più difficili E questa qua, ragazzi, è veramente una battaglia molto difficile E' ritata 8 su 10 di difficoltà Togliamo una fiera Cosa sto dicendo? Allora, vediamo Ecco, i pezzi attaccheranno automaticamente al termine del vostro turno Sposto un servitore? La rock, nooo! Bellissimo! Non avete molti pezzi? Se li esaurite, perderete Cosa? Non lo sapevo! Questa mia nuova! Questa mia nuova! Questa mia nuova! Ok! Il cavallo! Ok! Il cavallo... Ne ha troppe. Ne ha troppe di carte lui, come si fa? Il re bianco contro il re nero. Cioè bisogna praticamente salvare ogni pezzo. Ogni pezzo è fondamentale. Ecco, i pezzi attaccheranno automaticamente al termine del vostro turno. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Il problema è che gli sopravvivono tutti. Tutti a uno ma sopravvivono. E' un po' di più. E' un po' di più. Si è saltato su un ca, ma io lo ho finito. Oh Un alfier, brudad Cavallo Jona Skerry 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 Wasr Skerry 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 Un altro Grazie Dio Aspetta però Non ha una cosa No, adesso ce l'ho la regina Una cosa non ho colpisco Oh la torre si salva Proprio lei Scacco matto Oh la torre si salva Ok Sono mia ultima carta Che bravi Che mi è venuta una pazzia idea Con cui mi ci ha convinto Vai così Mamma mia Di questo passo raggiungeremo la cima della torre In tempo per salvare la festa Non credo proprio amico mio Però se ci credi tu Va tutto bene Non è vero mai nella vita